3. Anno Santo Che cos'è l'anno santo? Commento È uno dei tanti modi di concentrare il pensiero sugli insegnamenti dei grandi e evoluti di tutti i tempi, che per la maggioranza sono sconosciuti. Infatti l'anno santo, che comunque va a consumarsi sempre più, può non apparire solo un'inutile ritualità, ma un'occasione per svegliare dentro di noi l'esistenza dell'oltre e sollevare l'uomo dal peso dell'esistere, che è ancora la caratteristica della condizione umana.